Ciao Aurora, bello stare qui insieme a te a Giffoni. Ti volevo chiedere, tu hai debutato molto presto, hai iniziato questo lavoro molto presto, ti volevo chiedere se hai dei consigli per persone giovani, ragazzi che vogliono intraprendere il tuo stesso mestiere. I consigli, mi dispiace dirlo, ma sono sempre gli stessi, sì sono sempre gli stessi ma sono allo stesso tempo anche super giusti. Ti piace una cosa? Fallo, coltivala, semina, che poi raccogli. Volere è potere, ognuno fa quello che vuole, però lo deve volere, gli deve piacere. Se il tuo sogno, la vita è fatta per sognare, uno deve proseguire e ci deve provare con tutte le sue forze, anche se magari qualche aspetto, qualche situazione può andargli contro, però rincorri ciò che ti fa stare bene. Sono d'accordo, bello. E il tema di quest'anno è invisibilità. Ti sei mai sentita così nella tua vita? Sì, un po' perché volevo io, un po' perché magari qualcuno mi ci ha fatto sentire. Sì, mi è successo. La cosa migliore è affrontarla nel migliore dei modi, ovvero non darci troppo peso, perché sono cose che succedono. Anche solo per me, a me piace ogni tanto separarmi dal gruppo e stare da sola, non pensare a niente ed essere totalmente invisibile. Invece tante volte qualcuno mi ci ha fatto sentire, qualche situazione mi ci ha fatto sentire, inconsapevolmente anche. Magari mi ritrovo con persone più grandi di me, tipo su Flex Out inizialmente. Mi sentivo un po' io invisibile, ma mi sentivo semplicemente in difficoltà, perché le persone erano tutte più grandi di me. Quindi io, un po' come Matilde, avevo il bisogno di tirarmi un po' più indietro, perché volevo stare per i fatti miei, perché avevo paura di fare più braccia, perché mi sentivo in difficoltà, mi sentivo un pesce a portacqua. Ma invece altre situazioni scomode, però succedono che inconsapevolmente ti portano ad essere un po' più esclusa dal gruppo. Bisogna affrontarle, penso, nel migliore dei modi, ovvero fregandosene. Se la gente non è importante per te, perché darci troppo peso? Giusto. Poi mi viene anche in mente, in un momento come questo, in cui siamo tutti overexposed per via dei social, a volte è anche bello ritirarsi nella propria nicchia. Ma infatti è quello che genera l'invisibilità, perché dai social ci aspettiamo visibilità sempre e ovunque, quando in realtà l'invisibilità bisogna cercare. È proprio quella, l'idea di essere privati, l'idea di essere da soli e capire se stessi. Perché altrimenti ci affidiamo, ci muoviamo in gruppo e uno segue il gruppo quando in realtà devi semplicemente essere te stesso e ti devi separare, devi essere da solo per un po'. Non fa male a volte essere invisibile. Invisibilità può essere anche sinonimo di autenticità. Sì, assolutamente. Può essere un qualcosa di negativo, ma anche qualcosa di positivo, dipende da che punto di vista lo osserviamo. Ultima domanda, tu sei anche una ballerina. Sì. E hai mai pensato di recitare in un musical ti piacerebbe? Hai un sogno nel cassetto di questo tipo? No, un sogno nel cassetto no, però sicuramente mi piacerebbe unire il mio lavoro con la mia passione. Quello sì, è magari un futuro, che lo so. Però mi piacerebbe, mi piacerebbe tanto. Hai un musical preferito, qualcosa che ti piace? No, però mi ricordo che quando ero piccola mi piaceva steppato perché ci sta qualche puntata, non mi ricordo, un film che c'era anche la salsa, io uno specifico ballo salsa. Mi ricordo che quando ero piccola ero particolarmente attratta da quel film perché è insolito vedere la salsa nei film. E io ero particolarmente presa proprio perché guarda mamma, c'è la salsa, non balla nessuno la salsa, la conoscono la salsa. Credo di essere l'unica a ballare salsa. E quindi fare un film sulla salsa, un musical, per carità sono aperta a tutto, perché no? Vedremo. Vedremo. Grazie mille. Grazie mille.